Amici di Android Blog, siamo allo stand Alcatel per farvi vedere un attimo questo Idol 2. Idol 2 terminale che ha dimensioni 136,5 x 70 mm x 7.3 di spessore, un peso di 128 grammi. Possiamo vedere la fotocamera frontale qua in alto da 2 megapixel a fianco alla griglia dell'autoparlante, sotto i tasti Android al di fuori del display. Nella parte inferiore doppio speaker o forse speaker e microfono, indagheremo su questa caratteristica. Sulla parte sinistra i due sportellini per la SIM e per lo slot microSD. Sulla parte destra il bilanciere del volume, la tasta di accensione e spegnimento blocco o sblocco. Dietro la camera da 8 megapixel dotata di flash e autofocus. Il display un'unità da 5 pollici e 540 x 960 pixel di risoluzione. La memoria interna che equipaggia questo Alcatel è da 8 GB, più 1 GB di RAM. Il processore che invece muove questo terminale è un MT6582M. La versione di Android con cui viene commercializzato è la 4.2. Diciamo che il processore di prima è un quad core da 1.3 GHz. L'interfaccia personalizzata di Alcatel è davvero piacevole alla vista con queste icone dai colori tenui. Possiamo vedere un attimo come sono strutturati i menu entrando nelle impostazioni del terminale. Vedete che sono personalizzati anche in questo caso. Confermiamo la versione di Android che è la 4.2.2 per la precisione. Per questo Alcatel comunque è un terminale curato nei dettagli e anche nell'estetica, come potete vedere anche nelle colorazioni, che lo vediamo anche bianco qua a fianco, sia nei materiali perché restituisce un touch and feel davvero buono. Quindi non vediamo l'ora di provarlo più approfonditamente assieme agli accessori che vedete in questo momento inquadrati con le cover che avranno anche la smart windows o come chiamerà Alcatel. Non sappiamo la cover con lo sportellino trasparente davanti. Non vediamo l'ora di esplorare più a fondo le potenzialità di questo smartwatch. Per questa preview invece è tutto.